per me tutte non succede niente dai gli è nata la cazza e affiate li sordi oh t'ho visto diri voi allora adesso ruba la bomba è la bomba corri il go ma che cazzo sono oh l'ho matto ma il posto è sforzato tutto sta a vedere il padre eterno che poi le fa mi ha portato via la madre ma pure la fia no non la reggo un'altra botta te la porta via nessuno non penso a tagliare le medicina che gli devi dà che te la porta via nessuno ma lì c'ha solo a me se ne ha aiuto io ma chi aiuta? io so solo che è matto e secondo me sbaglio a portartelo dietro te sei nova al cantiere dai c'è schiacciarti che sei nata oh oh che è sta cacarata oh 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 no ma questo chi è? un altro coglione come te? oh 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 vi chiedo quanto può durar oh 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 e quanto può durar? dura ma dai che dura ma perchè lì ma che ci manca? dipende Vittor quanto te basta quello che ci abbiamo? avevi cominciato a fare io non voglio che te fai oh hai capito che non voglio voglio oh 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 Ti ammazzo come un cane, dammi tutto quello che c'è al cazzo. No, non si è staccato, non si è staccato. DAGLI!